L'argomento della presente lezione riguarda la determinazione del carico limite delle fondazioni dirette. Prima di entrare comunque nel vivo dell'argomento discuteremo in termini generali quali sono i requisiti di progetto che devono essere soddisfatti, illustreremo quindi i meccanismi attraverso i quali si può raggiungere una configurazione di stato limite ultimo e discuteremo infine approfonditamente i teoremi della plasticità che rappresentano lo strumento attraverso il quale si perviene alla definizione del carico limite che è l'oggetto di questa lezione. Allora innanzitutto iniziando l'analisi dei requisiti di progetto va precisato che la realizzazione di qualunque opera richiede che siano soddisfatti determinati requisiti di progetto. Nel campo dell'ingegneria delle fondazioni rivestono particolare rilevanza due requisiti. Il primo, che è un requisito di stato limite ultimo, richiede l'accertamento della sussistenza di determinati margini di sicurezza nei confronti di possibili meccanismi di collasso. Il secondo importante requisito è che i movimenti dell'opera siano compatibili con la funzionalità dell'opera stessa. Ora, l'interpretazione delle condizioni di collasso non è un'operazione semplice qualora la si voglia perseguire tenendo conto del complesso comportamento dei terreni di fondazioni in tutti i suoi aspetti. Mostreremo invece nel corso di questa lezione come si possa interpretare il comportamento nella configurazione di stato limite ultimo in modo relativamente agevole se ci si concentra soltanto sulle condizioni presenti all'istante di collasso. Concentrarsi solo sulle condizioni presenti all'istante di collasso significa implicitamente ammettere che la risposta del terreno possa essere assimilata a quella di un mezzo plastico ideale. E allora con questa assunzione i teoremi della plasticità consentono di definire in modo relativamente semplice un limite superiore e un limite inferiore della soluzione esatta. Ora, per illustrare i meccanismi attraverso i quali una fondazione diretta può raggiungere una configurazione di stato limite ultimo, partiamo con l'analisi del seguente esempio. Si immagini di osservare, come voi vedete illustrato in questa figura, il comportamento di una fondazione diretta, di una fondazione nastriforma, posta su un letto di sabbia che sia stata depositata a strati a venti differenti colori. Allora, incrementando progressivamente il carico sulla fondazione, si genera sostanzialmente un meccanismo che nella letteratura geotecnica è nota come rottura di tipo generale, che è caratterizzata dalla formazione di superfici di scorrimento che si localizzano inizialmente in corrispondenza dei bordi della fondazione e che raggiungono progressivamente, si sviluppano progressivamente fino a piano campagna. In questo caso, che è il caso in cui la sabbia sia stata depositata in uno stato di addensamento relativamente elevato, in una curva carico-cedimenti, il raggiungimento di questa condizione di collasso è evidenziato da un valore di picco e da una successiva fase di decadimento del carico nel caso in cui la nostra prova di carico sia eseguita a velocità di spostamento controllato. Nel caso in cui invece ci si trovi di fronte ad una sabbia sciolta o molto sciolta, il raggiungimento della condizione di stato limite ultimo è completamente diverso, perché in questo caso risulta prevalente l'effetto della compressibilità del materiale e quindi a mano a mano che si aumenta il carico si ha un progressivo, continuo affondamento della fondazione senza la formazione di ben definite superfici di sciolta. Un meccanismo di questo tipo prende il nome di rottura per punzonamento e in una curva carico-cedimento il carico limite questa volta rappresenta l'asintoto al quale questa curva tende per cedimenti relativamente grandi. Come si può immaginare esiste anche un meccanismo di transizione definito in letteratura come rottura di tipo locale e caratterizzato in parte da fenomeni di localizzazione che risultano comunque confinati, cioè non portano alla formazione di vere e proprie superfici di scivolamento ed è un meccanismo intermedio che si verifica per stati di addensamento intermedi come mostra la figura. Ora l'importanza di discernere tra questi tre tipi di meccanismi dipende dal fatto che i teoremi della plasticità che adesso ci accingiamo a discutere si basano sull'ipotesi come già detto di comportamento del terreno di tipo rigido plastico e quindi i risultati che si ottengono dall'applicazione di questi teoremi sono a stretto rigore applicabili solo ad un tipo di rottura generale. Passiamo adesso ad esaminare questi teoremi della plasticità introducendo il loro enunciato. Allora il teorema cinematico o teorema del limite superiore sostanzialmente recita quanto segue. Se in un meccanismo la potenza dei carichi esterni uguaglia la potenza dissipata, i carichi esterni rappresentano un limite superiore dei valori di collasso o al più coincidono con essi. Viceversa il teorema statico o teorema del limite inferiore recita che se la configurazione di forze esterne è in equilibrio con una distribuzione degli sforzi interni che sia rispettosa delle condizioni di rottura il collasso in questo caso non può avvenire e le forze esterne rappresentano un limite inferiore del carico di collasso. Ora fermandoci un attimo a questi enunciati si possono fare innanzitutto le seguenti considerazioni. Appare evidente che l'applicazione del teorema cinematico porta ad un risultato che è a sfavore di sicurezza in quanto rappresenta un limite superiore della soluzione esatta. Quindi di conseguenza significa che nell'applicazione del teorema cinematico occorrerà investigare tutti i possibili cinematismi in maniera tale da minimizzare il carico di collasso così ottenuto. Viceversa l'applicazione del teorema statico porta risultati che sono sempre a favore di sicurezza quindi rivestono per questo motivo molta importanza e in quanto rappresentano un limite inferiore della soluzione esatta. In questo caso quando si applica il teorema statico risulta importante raffinare l'analisi dello stato di sforzo in maniera tale da massimizzare il valore del carico di collasso che così si ottiene. Ovviamente se l'applicazione dei due teoremi porta allo stesso risultato vuol dire che in questo caso si è di fronte alla soluzione esatta cioè al vero carico di collasso. Un'ulteriore precisazione riguarda comunque il termine meccanismo. Ora i teoremi della plasticità si basano sull'ipotesi di flusso plastico associato e di conseguenza l'ipotesi di flusso plastico associato comporta che il vettore che rappresenta l'incremento di spostamento deve essere inclinato di un angolo pari all'angolo di resistenza al taglio rispetto alla linea di scorrimento sicché è possibile dimostrare che l'equazione di questa linea di scorrimento è la seguente. Il vettore r sarà uguale al vettore iniziale r0 e elevato a teta tangente di fi primo. Di conseguenza si arriva alle seguenti due importanti conclusioni che nel caso di un mezzo granulare le linee di scorrimento devono essere delle rette o delle spirali logaritmiche e nel caso invece di un mezzo coesivo in condizioni non drenate le linee di scorrimento saranno costituite da rette o da archi di circonferenza. Allora iniziamo, mostriamo come utilizzare i suddetti teoremi con la determinazione del carico limite delle fondazioni di rette in condizioni non drenate. Ora come più volte ricordato, l'indeterminatezza della sovrappressione interstiziale dovuta a complicati percorsi di carico rende obbligato un'analisi in termini di tensioni totali. In queste condizioni l'inviluppo di rottura, come voi ben sapete, è caratterizzato da un'intercetta pari alla resistenza al taglio non drenata SU e risulta orizzontale. Adoperando questo criterio di rottura, se noi adesso immaginiamo di voler determinare il carico limite di una fondazione, qui indicato come Q limite, immaginiamo che B sia la larghezza della nostra fondazione nastriforme e supponiamo che Q sia il sovraccarico agente ai bordi della fondazione, l'applicazione del teorema cinematico comporta innanzitutto l'individuazione di un possibile meccanismo. Supponiamo ad esempio che lo scivolamento avvenga su una superficie cilindrica la cui traccia sia rappresentata da questa semicirconferenza. La resistenza al taglio disponibile è in questo caso rappresentata dalla resistenza in condizioni non drenata SU e se noi immaginiamo di imprimere una rotazione piccola virtuale al nostro cilindro pari a delta teta. Il lavoro compiuto dalle forze esterne sarà data dal risultante del carico limite Q limite moltiplicato B per lo spostamento B delta teta mezzi meno il lavoro negativo del sovraccarico agente ai bordi della fondazione Q per B B delta teta mezzo uguale al lavoro interno che è il lavoro compiuto dalla nostra resistenza al taglio SU che agisce sulla semicirconferenza pi greca beta e che compie lavoro per effetto dello spostamento virtuale B moltiplicato delta teta. Benissimo, da questa espressione si ricava immediatamente, come voi vedete, il valore del carico limite che in questo caso risulterà pari al sovraccarico Q più 2π che moltiplica la resistenza non drenata SU. Questo valore rappresenta un limite superiore della soluzione esatta perché, come recita l'enunciato del teorema cinematico, la configurazione dei carichi esterni in questo caso rappresenta un limite superiore della configurazione reale che produce il collasso. Di conseguenza è di interesse investigare altri possibili cinematismi in maniera tale da cercare di minimizzare l'espressione di questo Q limite. Supponiamo a tale scopo di considerare questa volta un arco di circonferenza che si è individuato da un angolo al centro pari a due volte alfa. Quindi, ripetendo lo stesso discorso, in questo caso se al solito B è la larghezza della nostra fondazione, va osservato che questa volta il raggio della fondazione sarà pari a B diviso seno di alfa. Di conseguenza, l'espressione del lavoro esterno risulterà sempre pari a Q limite meno Q B che moltiplica lo spostamento virtuale pari a B Δθ diviso 2 uguale al lavoro interno, questa volta noi avremo SU che moltiplica due volte alfa il raggio della nostra fondazione B diviso seno di alfa, che moltiplica lo spostamento virtuale che è dato ancora dal raggio moltiplicato Δθ, quindi B seno di alfa Δθ. Questo è il motivo per cui nell'espressione figura B diviso seno di alfa al quadrato. Si tratta quindi, in questo caso, di scegliere opportunamente l'angolo alfa in maniera tale da minimizzare questa espressione. Quindi il nostro problema è ricondotto alla ricerca di un minimo. Allora, se noi riportiamo su questo diagramma il valore del rapporto Q limite meno Q diviso la resistenza non drenata SU in funzione dell'angolo alfa, quindi stiamo cercando di minimizzare questa espressione, si ottiene una curva che ha questo andamento con un minimo in corrispondenza di un angolo pari a 66,8 gradi, cui corrisponde un valore di questo rapporto pari a 5,52. Quindi, come voi vedete, siamo riusciti ad ottenere un valore inferiore al valore precedente che era pari a 2π. Mostriamo adesso come si possa applicare il teorema statico. In questo caso, si tratta di costruire un campo di sforzi che risulti in equilibrio con le forze esterne applicato e che sia rispettoso del criterio di rottura. Immaginiamo al solito di avere il nostro Q limite che è l'incognita del nostro problema, indichiamo con Q il sovraccarico ai bordi della nostra fondazione e immaginiamo di introdurre una discontinuità statica. Allora, a sinistra della discontinuità statica la tensione principale coincide con la tensione verticale sigma 1a, la tensione principale minore coincide con la sigma 3a, a destra invece della discontinuità si verifica una rotazione dei piani principali per cui la tensione principale maggiore è la tensione orizzontale sigma 1b, la tensione principale minore è data da sigma 3b. Le condizioni di equilibrio all'interfaccia richiedono che i cerchi di morra rappresentativi dello stato di sforzo rispettivamente a destra della discontinuità e a sinistra della discontinuità risultino tra di loro tangenti. Per cui se su è la resistenza al taglio in condizioni non drenate del nostro materiale, poiché sigma 1a come condizione al contorno coincide con Q limite e sigma 3b coincide con Q, si deduce immediatamente che il carico limite in questo caso sarà dato da sigma 1a e quindi sarà uguale a Q più 4 volte SU. Come voi vedete questo valore risulta inferiore ai valori precedentemente trovati perché il teorema statico fornisce un limite inferiore del carico di collasso, un valore che è sempre a favore di stabilità. Ritornando alla nostra immagine, la presenza di una discontinuità provoca una rotazione dei piani principali di 90 gradi. Ora come voi potete immaginare questa rotazione avviene in realtà in maniera alquanto graduale ed è possibile simulare questa rotazione graduale introducendo un ventaglio di discontinuità. Allora in questo caso è possibile dimostrare che in presenza di una singola discontinuità la traslazione subita dai centri dei cerchi di morra è pari a due volte la resistenza non drenata SU che moltiplica seno di teta dove teta rappresenta la rotazione subita dalla tensione principale maggiore attraversando la discontinuità statica. Se immaginiamo di introdurre un ventaglio di n discontinuità statiche è possibile dimostrare che tra i cerchi estremi che rappresentano lo stato di sforzo nella zona immediatamente al di sotto del carico limite e nella zona immediatamente al di sotto del sovraccarico Q, la traslazione dei cerchi di morra risulta pari a pi greco SU. Nuovamente quindi dalla geometria dei cerchi di morra si deduce che il valore di Q limite è uguale a Q più delta S che moltiplica SU ed essendo delta S uguale a pi greco SU si perviene in questo caso adoperando cioè un ventaglio di discontinuità al valore esatto della nostra soluzione Q limite è uguale a Q più due volte più pi greco che moltiplica SU. Questo risultato rappresenta la soluzione esatta ed è la soluzione che era stata ottenuta in precedenza da Prandl nel 1921 adoperando il metodo delle caratteristiche. È possibile dimostrare ritornando nuovamente al teorema cinematico è possibile dimostrare che lo stesso valore può essere raggiunto tramite introducendo un cinematismo un meccanismo di collasso di questo tipo. Si immagini di introdurre due blocchi rigidi A e B che siano separati da una zona radiale, da questa zona centrale, rappresentata da un ventaglio di discontinuità. Tenendo conto quindi della potenza dissipata all'interno di questo ventaglio di discontinuità è possibile dimostrare che si perviene esattamente allo stesso risultato. Quindi in questo caso il valore fornito dal teorema statico e il valore fornito dal teorema cinematico coincidono e quindi siamo in presenza della soluzione esatta. Bene, arrivati a questo punto, considerata l'importanza che rivestono nelle applicazioni i teoremi della plasticità, noi continueremo ad utilizzarli nella prossima lezione quando parleremo della determinazione del carico limite in condizioni non drenate. L'importanza di questi teoremi che risiede anche nel fatto che essi permettono di inquadrare in una visione unitaria anche altre procedure tipo il metodo dell'equilibrio limite globale. Vale la pena ritornare nuovamente sugli enunciati degli stessi teoremi e riassumere quanto abbiamo finora fatto per mettere ancora una volta in evidenza le principali peculiarità dei due teoremi. Allora riprendiamo l'enunciato del teorema cinematico o del limite superiore. Questo teorema recita che in un meccanismo di collasso se la potenza dei carichi esterni uguali alla potenza dissipata, i carichi esterni rappresentano un limite superiore dei valori di collasso o al più coincidono con esse. Di conseguenza se noi vogliamo determinare il valore del carico limite immaginiamo che Q sia il sovraccarico ai bordi della fondazione innanzitutto occorre supporre un meccanismo di collasso. Questo meccanismo di collasso deve essere compatibile con l'ipotesi che il flusso sia un flusso associato e quindi di conseguenza deve essere rappresentato o da rette o da archi di circonferenza come in questo caso. Poiché l'applicazione del teorema cinematico comporta la determinazione di un limite superiore della soluzione esatta se 2 alfa è l'angolo al centro che individua quest'arco di circonferenza diventa importante minimizzare il valore di Q limite che con questo procedimento si ottiene. Di conseguenza la procedura prevede l'uguaglianza del lavoro esterno al lavoro interno, la determinazione della espressione di Q limite in funzione dell'angolo alfa e la ricerca quindi di un minimo di questo Q limite. Questo rappresenta il valore che si ottiene applicando il teorema cinematico relativamente al cinematismo che è stato ipotizzato. In questo caso quindi noi otterremmo che Q limite è uguale a Q più 5,52 volte la resistenza non drenata SU. Il teorema statico invece recita quanto segue. Se la configurazione di sforze esterne è in equilibrio con una distribuzione di sforzi interni che sia rispettosa del criterio di rottura il collasso in questo caso non può avvenire e le forze esterne rappresentano un limite inferiore del carico di collasso. Ora proprio in virtù del fatto che il teorema statico permette di pervenire ad una soluzione che è sempre a favore di stabilità come si può immaginare il nostro maggiore interesse rivolto proprio all'applicazione di questo teorema statico. Nella precedente lezione quando abbiamo parlato della determinazione della resistenza passiva abbiamo anche mostrato come attraverso l'applicazione di questo teorema sia possibile pervenire ad una soluzione che sia a favore di stabilità. Naturalmente l'applicazione del teorema statico è meno intuitiva rispetto al teorema cinematico e quindi risulta decisamente più laboriosa. Innanzitutto occorre tenere presente che nella costruzione di un campo di sforzi si ha una continua rotazione dei piani principali e quindi di conseguenza risulta necessario introdurre un ventaglio di discontinuità statiche per simulare in maniera opportuna questa rotazione dei piani principali. Occorre poi ricordare delle relazioni fondamentali la prima delle quali è costituita dal legame che esiste tra i centri dei cerchi di morre che si trovano a cavallo di una discontinuità e l'angolo teta che rappresenta la rotazione che la direzione principale maggiore subisce attraversando la discontinuità. Se questa relazione fondamentale viene applicata in presenza di un ventaglio di discontinuità se riesce immediatamente a determinare la posizione relativa dei due cerchi di morre estremi, il primo che rappresenta lo stato di sforzo immediatamente al di sotto del carico limite nella zona qui a sinistra, il secondo rappresentativo dello stato di sforzo immediatamente al di sotto del sovraccarico e infine la geometria delle condizioni che si hanno in equilibrio limite permette di determinare quindi il valore del carico limite. Quindi vi prego di lavorare con molta attenzione all'applicazione di questo teorema statico in maniera tale da acquisire una certa familiarità con questa procedura che ripeto è quella che riveste maggiore interesse da un punto di vista applicativo. Fatti questi richiami quindi evidenziati questi aspetti vediamo adesso attraverso un esempio come applicare questi concetti per la determinazione del carico limite di una fondazione su un terreno a grana fine e esaminiamo l'aspetto relativo alla scelta dei parametri di resistenza al time. Allora con riferimento a questa immagine supponiamo di avere una fondazione nastriforme larga 4 metri supponiamo che questa fondazione sia posta a 1 metro e 50 dal piano campani come evidenziato in figura supponiamo che il livello della falda sia coincidente con il piano di fondazione. In queste condizioni abbiamo più volte evidenziato che le condizioni critiche per la stabilità sono le condizioni a breve scadenza e l'impossibilità di determinare un valore della sovrappressione interstiziale in presenza di complicati percorsi di carico rende obbligatoria un'analisi in termini di tensioni totali. Il nostro inviluppo di rottura sarà rappresentato da questa retta orizzontale con un'intercetta pari alla resistenza non drenata SU. Supponiamo che il nostro materiale sia caratterizzato da un rapporto di preconsolidazione pari a 6, che il peso dell'unità di volume sia pari a 19 chilo newton al metro cubo e immaginiamo che il terreno ai bordi della fondazione possa essere assimilato ad un sovraccarico pari esattamente a gamma moltiplicato D. Poiché come più volte ricordato la resistenza al taglio del materiale, la resistenza non drenata, non è una proprietà del terreno, bensì un parametro di comportamento che rappresenta la risposta del materiale in precise condizioni di stato, immaginiamo che lo stato tensionale rappresentativo lungo l'eventuale superficie di scivolamento sia quello corrispondente ad una profondità media che qui è evidenziata come Z sopralineata. inoltre, sempre in virtù del fatto che la nostra resistenza al taglio non drenata rappresenta un parametro di comportamento, occorre tenere presente che il suo valore dipende sostanzialmente dai percorsi di carico. Ne consegue che lungo una potenziale superficie di scivolamento noi avremo percorsi di carico differenti, ad esempio l'elementino A tende a raggiungere la rottura in condizioni di compressione per carico, l'elementino B tende a raggiungere la configurazione di rottura in condizioni di taglio semplice, l'elementino C tende a raggiungere una configurazione di rottura in condizioni di estensione per carico, quindi come voi vedete c'è una continua rotazione dei piani principali e a queste diverse condizioni di carico corrispondono diversi valori della resistenza al taglio non drenata. Questi diversi valori della resistenza al taglio non drenata sono evidenziati per esempio da questi dati sperimentali che riportano il valore della resistenza non drenata normalizzata rispetto alla tensione principale di consolidazione sigma primo vc in funzione dell'indice di plasticità del materiale. Come si può notare i risultati ottenuti da una prova di compressione per carico prova triassiale di compressione per carico si collocano nella fascia superiore, si collocano nella fascia inferiore i risultati che competono a prove di estensione, si collocano nella fascia intermedia i risultati provenienti da prove di taglio semplici. Di conseguenza nell'effettuare la nostra analisi di stabilità occorre tener conto della dipendenza della resistenza al taglio non drenata dalle condizioni di stato, ma occorre tener conto della dipendenza di questo stesso parametro dalle condizioni di carico differenti fra di loro che si verificano lungo la superficie di scivolamento. A queste considerazioni vanno aggiunte le ulteriori considerazioni che abbiamo avuto modo di sviluppare nel corso delle lezioni dedicate alla resistenza al taglio che riguardavano sostanzialmente il fenomeno della rottura progressiva. Si tratta di fenomeni estremamente difficili da quantificare come voi potete immaginare. Proprio per questo motivo nella pratica corrente ci si rifà a delle correlazioni sostanzialmente di natura empirica che sono state dedotte dall'analisi retrospettiva di rotture di casi reali. Sulla base proprio di queste analisi e prassi far riferimento ad un valore operativo, viene definito in questa maniera, proprio per sottolineare il fatto che si tratta di un valore dedotto dall'analisi retrospettiva di casi reali, quindi un valore operativo della resistenza al taglio non drenata che normalizzata rispetto alla tensione verticale efficace litostatica risulta mediamente pari a 0,22 che moltiplica il rapporto di preconsolidazione elevato ad un esponente che mediamente risulta pari a 0,8. Allora l'utilizzo di un'espressione di questo tipo permette sostanzialmente di tener conto dello stato di sforzo iniziale del nostro materiale, permette di tener conto dell'influenza dei diversi percorsi di carico che si hanno lungo la potenziale superficie di scivolamento, permette di tener conto anche dell'influenza della storia tensionale del materiale. Si tratta adesso di vedere come utilizzare nel caso in esame questa espressione. Allora se come già detto si considera che lo stato tensionale rappresentativo lungo la superficie di scivolamento sia quello corrispondente ad una profondità media z sopralineata che pari al piano di posa della nostra fondazione più un mezzo il valore che si ottiene lungo la profondità media lungo la superficie di scivolamento che è data da B radice di 2 su 2 dove B è la larghezza della fondazione, si ottiene in definitiva un valore pari a 2,92, 91 metri scusate. Il valore della tensione verticale efficace a questa profondità risulta pari a 41,46 kilopascal e di conseguenza il valore della resistenza al taglio non drenata, il valore operativo di questo parametro risulta pari a 0,22 sigma primo V0 che moltiplica il rapporto di preconsolidazione elevato a 0,8. In definitiva quindi si ottiene un valore pari a 38,25 kilopascal. Ripeto, questo valore è il valore della resistenza operativa disponibile lungo la superficie di scivolamento. A questo punto si tratta di applicare l'espressione che consente di determinare il valore del carico limite, quindi avremo q limite uguale su per nc più q, questo nc è definito in letteratura coefficiente di capacità portante, abbiamo visto tramite l'applicazione del teorema statico che questo valore risulta pari a 2 più pi greco, quindi avremo s unc 196,61 più il valore del sovraccarico 28,50 in sostanza, il valore del carico limite risulterà pari a 225,11 kilopascal. Arrivati a questo punto si tratta sostanzialmente di applicare un coefficiente di sicurezza per ottenere un valore del carico ammissibile. A questo proposito si introduce il concetto di carico limite netto inteso come aliquota aggiuntiva rispetto al carico agente sul piano di posa della fondazione per raggiungere il valore di collasso. Quindi sostanzialmente il carico limite netto è dato dalla differenza q limite meno q ed è pari a 196,61 kilopascal. L'importanza di definire questo carico limite netto risiede nel fatto che sostanzialmente le incertezze in un'analisi di questo tipo si collocano nel nostro parametro che il parametro di resistenza al taglio su e questo q limite netto è proprio uguale a 2 più più greco su. Quindi non avrebbe tanto senso applicare un coefficiente di sicurezza all'intero valore di q limite perché le incertezze, ripeto, si collocano nella stima del carico limite netto. Pertanto il carico ammissibile risulta dato dal carico limite netto diviso il nostro coefficiente di sicurezza più il sovraccarico q. Solitamente per quanto riguarda le fondazioni dirette si applica nella prassi corrente un coefficiente di sicurezza che come voi vedete è un coefficiente di sicurezza applicato al carico limite netto quindi assume il significato di coefficiente di sicurezza globale pari a 3 per cui in definitiva il nostro carico ammissibile, carico unitario ammissibile risulta pari a 94,04 kPa. Bene, ci fermiamo qui con questa lezione e come vi ho già anticipato nella prossima vedremo come applicare i teoremi della plasticità alla determinazione del carico limite delle fondazioni dirette in condizioni drenate.